Ciao e bentornato su Impara DaVinci Resolve. Qual è la primissima cosa che fai quando hai finito una giornata di riprese video? Te lo dico io, il backup delle schede di memoria o su dischi esterni o su dischi interni al tuo pc o al tuo mac. Per farlo puoi anche utilizzare un tool presente all'interno di DaVinci Resolve che si chiama Clone Tool. Vedremo come utilizzarlo all'interno del tutorial di oggi. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Quindi il Clone Tool all'interno di DaVinci Resolve. Le clip che hai appena girato sono la risorsa più importante che hai a disposizione e quindi sono da mettere subito al sicuro. Quindi la primissima cosa da fare ancora prima di iniziare a lavorare sul tuo progetto è fare il backup di tutte le tue schede di memoria e solitamente lo si fa manualmente cioè si prende la scheda dalla camera o si collega direttamente la camera oppure tramite un lettore di schede si fa il backup tramite il tuo sistema operativo su uno spazio disco all'interno della tua macchina e o su dischi esterni. Bene vediamo come fare questo backup quindi questa primissima operazione direttamente dentro l'interfaccia di Resolve. Cioè Resolve ti può dare una mano nel andare a copiare tutti i file dalla tua scheda di memoria su un disco collegato alla tua macchina e facciamo uso del tool che si chiama Clone Tool e che troviamo all'interno della media page. Quindi come prima cosa vai all'interno della media page cliccando sul pulsante media oppure sullo shortcut Shift più 2 e quindi andiamo ad attivare il Clone Tool. Si apre questo piccolo pannellino molto risicato in cui abbiamo un testo che dice che non c'è nessun jobs in coda. Qui possiamo aggiungere una job cioè un backup un'operazione di backup e questo è il tasto che ci permetterà di fare il backup. Io adesso ho preso la scheda di memoria dalla mia camera, l'ho collegata a un lettore di schede, questo lettore di schede l'ho collegato in USB al mio PC e troverò questo device sul disco K. L'unità K contiene pertanto la mia scheda di memoria. Questo è il contenuto della scheda, dentro questa cartella io troverò tutti i miei media, infatti faccio doppio clic e si apre il folder dei media, qui all'interno io troverò tutte le mie clip. Quindi torno indietro e quindi adesso io devo andare a backupare tutta questa cartella su una posizione prestabilita della mia macchina. Quindi la prima cosa da fare è fare add job. Quindi adesso devo andare a dire dov'è la sorgente, qual'è la cartella che devo copiare, sarà quindi questa. La vado a prendere quindi dal media storage, la prendo e la trascino dentro drop source folder here. Posso fare così, l'altra maniera è fare tasto destro e andare a cliccare su set as clone source, è la stessa identica cosa, ti viene messo questo percorso nella sorgente di backup, cioè questa cartella verrà backupata in un'altra posizione. Qual è la posizione? Beh quella la decido io. Quindi io posso andare a prendermi ad esempio una mia cartella di destinazione, dentro da Vinci Resolve io troverò scheda 1, ecco qui dentro io voglio andare a mettere il mio backup. Quindi prendo scheda 1 e la porto dentro drop destination folder here, altrimenti facevo tasto destro, invece di settarlo come clone source andavo a fare add as clone destination. Era la stessa identica cosa che fare un drag and drop. Ok, adesso che ho fatto questa cosa, poi vado a cliccare sul menu contestuale del pannello di clone tool e vado a cercare il check sum type. Che cos'è questo? Questo è un controllo che viene fatto sulla copia. Questi sono i vari sistemi di controllo, posso evitare il controllo e ve lo sconsiglio, oppure basarsi solo sulla dimensione del file, cioè se la dimensione del file è identica probabilmente il backup è andato a buon fine. Vi sconsiglio anche questo. Questi qua invece sono dei metodi di controllo che si basano su degli standard. Lo standard più conosciuto, che è quello che viene maggiormente richiesto, è l'MD5, MD5. Quindi selezioniamo questo che va benissimo, quindi sarò sicuro in questa maniera di effettuare un backup corretto di tutti i file contenuti dentro questa cartella. Fatta questa operazione, vado a cliccare su clone e adesso parte il mio backup, cioè tutti i file contenuti dentro questa scheda verranno backupati su una nuova posizione, in modo tale che la scheda poi io la possa riutilizzare. Ok, quando il backup è completo, compare la scritta completa, adesso possiamo andare a chiudere il nostro job. Possiamo anche uscire dal clone tool, quindi è dentro la scheda 1. Io aprirò tutti i miei file. Se voglio ora caricarli dentro il mio media pool, prendo la scheda 1 backupata e la trascino nel media pool. Ed ecco che avrò all'interno del media pool tutti i miei file correttamente caricati, pronti per essere lavorati. Naturalmente io posso fare tutti i backup che voglio, quindi io ho una stessa scheda di memoria, la posso backupare su un disco interno, su un disco esterno, in modo tale da avere multiple coppie dello stesso girato. Bene, se hai delle domande sull'utilizzo del clone tool all'interno di DaVinci Resolve ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno del canale. Grazie.